In questa puntata corso di perfezionamento unica in aspetti molecolari della nutrizione, dalla nutrigenomica alla nutrizione funzionale. Nuovo direttore per la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Nuovo direttore per la Scuola di Architettura e Design. Audizione in Commissione Antidiscriminazione del Senato per il docente Unicam Paolo Bianchi. Questi titoli andiamo ora a vedere il primo servizio. Al via il corso di perfezionamento post laurea in aspetti molecolari della nutrizione. Dalla nutrigenomica alla nutrizione funzionale, organizzato dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam. Diretto dalla professoressa Rosita Gabbianelli, è rivolto a medici, biologi, farmacisti e operatori della salute e all'obiettivo di dare risposte pratiche basate su evidenze scientifiche acquisite negli ultimi anni. Il corso di perfezionamento in aspetti molecolari della nutrizione, dalla nutrigenomica alla nutrizione funzionale, ha come principale obiettivo quello di trasferire ai partecipanti conoscenze nell'ambito della nutrizione molecolare. Cioè capire qual è l'impatto di un alimento, come può modificare la risposta mediata alla salute in relazione alla sua composizione, alla quantità dell'alimento e quando viene assunto. Perché lo stesso alimento può portare risposte diverse che impattano la salute durante tutto l'arco della nostra vita, con finestre più sensibili. Al contempo sarà importante far conoscere perché e come un alimento induce risposte diverse in ogni soggetto in relazione alla propria genetica e al proprio microbiota. Per fare questo noi abbiamo coinvolto più di 20 docenti, non solo ricercatori che lavorano in questo settore, ma anche professionisti che già utilizzano i dati della ricerca, queste evidenze scientifiche, nella pratica clinica. E quindi il corso non sarà solo teorico per comprendere le basi molecolari, ma anche pratico grazie alla presenza di questi professionisti che spiegheranno come utilizzare queste informazioni. Dal primo novembre il professor Gianni Sagratini, professore ordinario di chimica degli alimenti, è il nuovo direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute per i prossimi quattro anni. Lo abbiamo incontrato. Per me è un onore essere nuovo direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Sono cresciuto all'interno di questa scuola fin dai tempi del dottorato di ricerca in chimica del farmaco, poi attraverso tutti i vari step della carriera accademica, della carriera universitaria. La nostra scuola ha delle grandi potenzialità. Le aree tematiche intorno a cui ruota la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute sono sicuramente quella del farmaco, che è ovviamente centrale, insieme al mondo degli alimenti, delle piante, alla telemedicina e al mondo e al settore della cosmetica. Queste aree tematiche incrociano perfettamente quelle che sono le traiettorie del PNR, del Piano Nazionale della Ricerca e del Piano Operativo Salute. È proprio qui che sono state messe le risorse, quindi dovremmo essere bravi a intercettare tutto quello che l'Europa e l'Italia hanno deciso di investire. Dovremmo essere bravi più che altro a modellare quelle che sono le nostre abilità, le nostre capacità con quelle che sono le esigenze del mondo lavorativo, delle professioni sanitarie e tutto questo ovviamente in chiave sicuramente molto dinamica e nello stesso tempo però pratica e concreta. Da un po' abbiamo ricominciato le lezioni in presenza, gli esami in presenza, le sedute di laurea, quindi vi do il benvenuto ovviamente a tutti voi studenti come nuovo direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e Prodotti della Salute e vi aspettiamo appunto nelle nostre aule. Dal primo novembre il professor Massimo Sargolini, professore ordinario di urbanistica, è il nuovo direttore della Scuola di Architettura e Design, Edoardo Vittoria, con sede ad Ascoli Piceno. Lo abbiamo incontrato. Ho questo impegno a cui tengo molto e che ho affrontato anche con un appoggio corale da parte tutta la scuola e un abbraccio molto ampio per la verità, il che mi impensierisce ancora di più perché immagino che ci sia desiderio anche da parte di tanti miei colleghi di lavorare intensamente e bene, quindi spero di essere capace di coordinare questa grande squadra che si è formata nel periodo proprio di costruzione del programma perché anche la costruzione del programma è stata molto ampia e partecipata. Erano due riunioni a settimana che abbiamo fatto per un mese, sempre con la partecipazione direi di quasi tutti, proprio tutti i nostri colleghi. E ci siamo concentrati su alcuni punti rispetto ai quali poi delle deleghe speciali affidate ai colleghi potranno approfondire, percorrere sino in fondo. E questo è un punto di forza sicuramente, spero, del mio mandato, cioè una squadra molto ampia con tanti delegati capaci e volenterosi di affrontare tante tematiche che sono tutte quelle che vorremmo approfondire. Il professor Paolo Bianchi, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino è stato ascoltato nei giorni scorsi in audizione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, presieduta dalla senatrice Liliana Segre. La Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla natura, sulle cause e sugli sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio con particolare attenzione alle evoluzioni della normativa europea in materia. È proprio a tal riguardo che è stato invitato ad intervenire anche il professor Bianchi che si occupa di diritto costituzionale e giustizia costituzionale segno della sua competenza e preparazione anche su queste tematiche. E da Unicam News è tutto anche per questa puntata, grazie per essere stati con noi, ci vediamo mercoledì prossimo e vi ricordo che per essere sempre aggiornati sulle attività di Unicam potete consultare il sito web dell'Ateneo nonché la pagina Facebook istituzionale Unicam Università degli Studi di Camerino. Grazie ancora per essere stati con noi e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.